E' crisi di governo in Olanda. L'esecutivo guidato da Mark Rutte, il quarto con lo stesso primo ministro, è caduto sull'approvazione di alcune misure sulla migrazione e l'asilo che hanno spaccato l'alleanza che formava l'esecutivo. Uno dei punti critici che hanno portato alla rottura era soprattutto quello inerente al ricongiungimento familiare, ovvero che i richiedenti asilo potessero essere raggiunti delle famiglie una volta ottenuto lo status. Rutte, sulla cresta dell'onda da 12 anni, voleva porre un limite ai minori che potevano approfittare della misura, troppo per alcuni dei partner di coalizione che temevano che la legge avrebbe potuto essere sanzionata dall'Europa.